Mancava solo l'ufficialità che è arrivata stamani nel corso di una conferenza stampa. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, si ricandida per il secondo mandato. A sostenerlo tutto il centro-destra al completo, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, a cui si unisce la lista civica Amo Pistoia. Sì, ne abbiamo discusso con tutte le forze politiche, le associazioni, le liste civiche con cui abbiamo fatto questi cinque anni di lavoro intenso e abbiamo deciso di continuare quest'opera, finire quello che abbiamo iniziato e stiamo mettendo a punto anche un programma per come immaginiamo Pistoia nei prossimi dieci, vent'anni. Grandi sfide, sfide nella gestione dei soldi che arriveranno dal PNRR, che abbiamo già vinto, che vedranno trasformare la città. Sfide nel terminare quello che abbiamo iniziato con la nuova scuola Cino, la nuova scuola delle Frosi, il Milograno, con nuovi asili e scuole materne che formeranno, da un punto di vista pedagogico, sperimenti 06. Sfide anche per lo sviluppo economico della città, con il nuovo piano urbanistico, il nuovo piano strutturale che vuole attrarre investimenti, che ha visto arrivare sul territorio già importanti aziende e che hanno reindustrializzato aree importanti della nostra città. E quindi ci riproporremo alla città con tutto quello che abbiamo fatto, riconoscendo dove siamo in ritardo e dove vorremmo puntare, ma soprattutto coscienti di avere davanti sfide importanti che cambieranno radicalmente il volto della città da un punto di vista sociale, di vivibilità e anche economico.